Niente sì Hey Nandù Niko che stai vieno? Sì. Uuuu, come va a fare con la cabeza? Si, sta rascando. Si sta rascando. Manso, che che non sta facendo. Uuuu, come va a fare. Sta bailando. Claro. Sta dentro la cabeza. Puede la musica le gustavo. Libertad entra dentro la cabeza. Libertad entra dentro la cabeza. Esa. Hasta abajo. No. 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 Grazie